Buongiorno e benvenuti al telegiornale LEM, telegiornale ufficiale che incomincia a dare le notizie in anticipo, prima di tutto i telegiornali. Oggi vi daremo una notizia proprio ufficiale, saremo i primi a darvela anche. In diretta ora c'è il presidente, chiamiamolo così, Moratti, che parlerà a noi di una cosa molto importante e ci rivelerà un segreto. Ascoltiamolo. Sì, buongiorno. Siamo in diretta? Sì, allora, niente, volevo solamente dire che io lascio tutto, perché me l'hanno fatto capire in tanti che sto sbagliando. Io sto facendo una vita schifosa perché sono prima di tutto presidente dell'Inter e di questo io non me ne posso vantare, mentre tutti gli altri lo possono fare. I soldi non ne abbiamo perché partite non è che ne vinciamo un gran che. Io quello che voglio dire solamente è che è una vergogna per noi e se per caso c'è stata una vittoria sono stati soldi, soldi perché noi abbiamo lanciato. Ora questa è la verità, io non ce la faccio più. Ho visto su internet troppe cose brutte e sulla squadra dell'Inter io non ce la faccio più. Mollo, lascio tutto, me ne vado in Colorado e niente, volevo solamente dirvi questo, che da oggi farò una vita più decente, oltre che a fare il pagliaccio. quindi vi saluto a tutti. Ciao! Ciao!